Scendono in campo anche gli azionisti Banca Etruria, sono circa 250 infatti quelli che si sono rivolti all'avvocato Rizziero Angeletti dopo che si sono visti a zerare il risparmio in seguito al decreto salvabanche del 22 novembre scorso. Ma si tratta di un dato destinato a salire, infatti le richieste arrivano quasi quotidianamente. I risparmiatori che ritengono di essere stati danneggiati dalle condotte degli ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino il prossimo 10 marzo si presenteranno davanti al giudice per l'udienza preliminare sul filone d'inchiesta dell'ostacolo alla vigilanza per chiedere così di potersi costituire parte civile. Faremo tutto il possibile per essere ammessi come parti civili ma saremo presenti più che altro per dimostrare che la nostra intenzione è quella di arrivare fino in fondo a prescindere dal procedimento del 10 marzo. Poi ci saranno i procedimenti che saranno instaurati per la bancarotta fraudolenta e lì saremo tutti quanti costituiti e anche lì cercheremo di dimostrare le nostre ragioni. Le nostre intenzioni sono quelle di tutelare al massimo i diritti degli azionisti. Per fare questo a mio parere occorre arrivare fino alle massime responsabilità. Il danno che è stato arrecato è un danno che assume la massima valenza considerato che la maggior parte dei risparmiatori, degli azionisti sono persone anziane, sono persone che poco conoscevano del sistema bancario, persone che sono state tratte in inganno a più riprese e persone che purtroppo si sono affidate alla fede che avevano nei confronti dei funzionari, dei dirigenti. I reati che si ipotizzano possono svariare dall'agiotaggio all'insider trading, la truffa, ovviamente la bancarotta che è già in atto, le falsità all'interno dei bilanci e delle scritture sono ovviamente ipotesi astratte che meritano un approfondimento.